Dopo lo spettatore digitale, edizione 2020 del Festival dello Spettatore, sarà interamente dedicata al tema del rapporto tra lo spettacolo dal vivo, i linguaggi, i mezzi digitali, l'edizione 2021 appunto del Festival dello Spettatore, che si svolgerà dal 20 al 24 di ottobre. Sì, appunto l'anno scorso il Festival dello Spettatore aveva segnato la chiusura dei teatri, il giorno dopo il festival era il 26 ottobre, quest'anno invece segna, accadendo appunto sempre alla fine di ottobre, il ritorno a pieno titolo dell'apertura delle sale teatrali e cinematografiche, quindi siamo particolarmente soddisfatti di questa cosa. Torna con una sesta edizione che abbiamo intitolato Esserci o non esserci, perché veniamo da questi mesi di teatro in streaming, di stratagemmi vari che la componente creativa artistica ha attuato per mantenere il rapporto con il proprio pubblico, appunto all'esserci. Non posso raccontarlo qui perché sono più di 25 appuntamenti nell'arco delle cinque giornate, dico che c'è spazio ovviamente sia per lo spettacolo, spettacoli di nuova drammaturgia, alcune prime nazionali, sia per la riflessione, l'approfondimento. Giornate di studi dedicate ancora ai linguaggi del linguaggio del digitale abbinato alla poetica teatrale, ma anche una giornata di studi importante il venerdì sulla cultura della sostenibilità e la sostenibilità della cultura, questo tema della sostenibilità legato in parte all'agenda 2030 che vogliamo affrontare per quello che riguarda le tematiche culturali. E poi la reunion degli spettatori d'Italia che si danno appuntamento il sabato 23, gruppi di spettatori organizzati di tutta Italia si danno appuntamento ad Arezzo per incontrarsi, confrontarsi in questo caso proprio con le tematiche della sostenibilità e della cultura.